Musica La sezione musica, moda e tendenze di Linda è una sezione interattiva dove si affronteranno principalmente temi di moda ma soprattutto di musica ho introdotto e introdurrò il fattore umano in musica abbiamo il primo articolo dedicato a un grande artista come Adelmo Fornaciari in arte e zucchero venerdì 11 novembre avremo l'onore di avere qui in studio Franco Caforio ex batterista di Elite FIBA ha suonato con loro dal 92 al 2005 e sarà un momento molto interattivo, di gioco, molto simpatico dove avremo la possibilità di fare direttamente delle domande i lettori possono inviare le loro domande via mail e la più simpatica, la più interessante verrà selezionata e il più fortunato anche avrà la possibilità di essere invitato direttamente qui in studio per cui non mancate perché sarà veramente divertente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.